Buonasera, ben trovati. 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 Prato è una città che in questo momento ha tutta una serie di sensoristica, abbiamo più volte parlato dei progetti archino del CNR, ma ha anche tutta una serie di studi, sempre fatto con il CNR, che analizzano i dati che provengono dai satelliti. E quindi anche questo significa avere conoscenze e consapevolezza di dove piantare gli alberi, per esempio, partendo proprio dalle aree che hanno più bisogno, quindi le aree che hanno più bisogno dal punto di vista ambientale. Il terzo giorno invece sarà dedicato a fare il punto del progetto Prato Urban Jungle, quindi tutti conoscono magari alcune aree come quella appunto che si vede adesso, quella del mercato coperto, ma in realtà Prato Urban Jungle ha voluto dire interventi di lega ambiente in tutte le scuole della città, quindi migliaia di bambini coinvolti in interventi, orti urbani, giardini segreti, quindi tantissimi insegnanti, tra l'altro, che sono stati formati a insegnare ai bambini, alle bambine delle nostre scuole, i temi ambientali. Green Apes che invece ha fatto tutto un lavoro sulla valorizzazione dei comportamenti sostenibili, quindi sono decine di migliaia, addirittura 72 mila, i comportamenti sostenibili che sono stati mappati e valorizzati nella città. E poi chiaramente tutto il lavoro di Tridom, che è quello che ha portato proprio alla costruzione del portale Prato Forest City, che è quello che sostanzialmente sta definendo questo rapporto nuovo della città con la natura e che permette a tutti i cittadini, associazioni, imprese di poter partecipare appunto a questa visione green della città. Lei ha fatto riferimento a Prato Forest City, il progetto è partito nel 2021 per dare qualche numero, poi le do ovviamente il là per proseguire, 2238 gli alberi già piantati, ovviamente poi il progetto proseguire, quindi si aumenterà ancora questo numero. C'è una filosofia chiaramente dietro a questo progetto, che è quella di rendere sempre più verde anche una città come la nostra, che comunque insomma verde ne ha ma non è mai abbastanza come si suol dire. Allora, Prato Forest City di fatto è diventato il contenitore dentro il quale stanno i progetti che l'amministrazione sta portando avanti e grazie a questo coordinamento, tra l'altro sono tantissimi i progetti in corso, i cittadini vedono questi giorni gli interventi lungo la declassata, oppure appunto davanti al centro Pecci o ancora sono veramente tantissimi gli interventi, abbiamo parlato recentemente degli interventi in oltre 40 giardini scolastici, quindi è un coordinamento che in questo momento sta portando in città oltre 10 milioni di euro di interventi sulla definizione di questa qualificazione ambientale della città che mette al centro la natura, ma dall'altra parte dà la possibilità a tutti di partecipare a questo, diciamo a contribuire anche attraverso finanziamenti alla rinaturalizzazione della città. Quindi questo è veramente importante perché noi vediamo che la città sta rispondendo veramente in modo incredibile. Sono 12 per esempio le associazioni, le tre associazioni e le imprese che in questo anno hanno donato e hanno contribuito a fare interventi a partire dal giardino davanti al pronto soccorso pediatrico, fino ad arrivare a lui, grazie a Obi, ieri abbiamo inaugurato per esempio il giardino, 15 alberi nel giardino di Aldamerini grazie a Estra, tra breve verrà realizzato un grande intervento di forestazione dietro al Parco Prato con una donazione di associazioni di arte continua di 150 mila euro, quindi lì addirittura verranno implementati 300 alberi. Quindi effettivamente vediamo che la città si sta qualificando su questi aspetti, moltissime aziende del distretto Tessile sono interessate a partecipare a questa idea di città, anche perché per le aziende questo significa qualificare la loro reputazione da un punto di vista ambientale, ma facendolo donando alberi per la propria città. Anche perché quello ambientale è un tema sensibilissimo, del quale ovviamente si sta cominciando a prendere sempre più coscienza e ce ne rendiamo conto con parole alle quali magari prima non eravamo abituati, cambiamento climatico, si passa da siccità estrema ad eventi alluvionali, immagini drammatiche che arrivano proprio da questi giorni dall'Emilia Romagna. Le dico quanto è importante, le chiedo, a maggior ragione cercare di rendere ancora più rispondenza dal punto di vista naturalistico una città che ovviamente siamo abituati invece a concepire come cementificato. Allora, è fondamentale, proprio perché il problema che si inizia purtroppo in questi giorni in modo anche così drammatico a vedere è che i cosiddetti cambiamenti climatici, invece, diciamo, io preferisco parlare di emergenza climatica, ha degli effetti, i cui effetti maggiori sono proprio nelle aree urbane. Cioè le aree urbane sono quei luoghi dove per tutta una serie di motivi, a partire dal dopoguerra, c'è stata diciamo una disattenzione su questi temi, quindi si sono chiusi dei corsi d'acqua, si sono magari deviati delle gore, nel caso di Prato, quindi sono stati fatti interventi che hanno radicalmente trasformato quello che era sempre stato un rapporto equilibrato che c'è sempre stato tra l'uomo e la natura, diciamo almeno fino al Novecento. Cosa succede quindi? Che questi cambiamenti climatici, di cui le città sono le prime cause, perché oltre il 70% delle emissioni climalteranti sono prodotte dalle aree urbane mondiali, sono quei luoghi dove gli effetti dei cambiamenti climatici si manifestano con maggiore evidenza. Quindi il tema di aumentare la natura nella città, aumentare gli alberi nella città, è un argomento che entra nelle cosiddettazioni di mitigazione degli effetti. Cioè per capirci, più alberi ci sono in una città e meno acqua per esempio percola direttamente al suolo, perché gli alberi attraverso le fronde intercettano l'acqua e poi quando piove, e poi piano piano la rilasciano. Oppure ancora a Prato stiamo studiando come utilizzare il sistema gorile, che è stato così importante per la storia di Prato ma che ancora oggi c'è, come sistema urbano di drenaggio, cioè fare in modo tale che la città in prospettiva diventi veramente una spugna che sia in grado di assorbire questi fenomeni intensi, come stiamo vedendo in questi giorni, e poi piano piano rilasciare l'acqua nel sistema fognario, che non potrà essere cambiato e non potrà mai essere adeguato per rispondere alle cosiddette bombe d'acqua che stanno succedendo. Quindi la natura è un argomento fondamentale, è l'unico strumento che in realtà abbiamo oggi nelle città per reagire e per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e allo stesso tempo la natura si prende cura di noi perché gli alberi comunque producono ossigeno, gli alberi producono un ambiente urbano più bello e soprattutto gli alberi rispondono veramente a una nostra esigenza profonda di essere umani, di portarci nuovamente in contatto con la natura e questo è un elemento essenziale per il nostro benessere psicofisico. Venendo ovviamente poi sempre alla Frato Forest City Week, il mededì 26 maggio poi c'è questo tour che si può fare, un tour in autobus per vedere appunto quelli che sono stati poi gli interventi relativi proprio alle varie forestazioni e altra cosa importante è proprio in questi giorni poi ci saranno fatti proprio dei ulteriori forestazioni, ce n'è stata una proprio in questi giorni, mercoledì faceva riferimento lei in via Aldamerini, poi domani Piazza Europa e via a seguire in via del Purgatorio, poi quella del Centro Pecci e la piantumazione di 60 alberi per il progetto Donanalbero, questo è un altro progetto molto importante che prosegue. Sì, allora infatti abbiamo inaugurato ieri l'intervento di forestazione urbana dei giardini Aldamerini, domani ci saranno appunto quelli, l'intervento in Piazza Europa, che comunque chi vive in quella zona lo sta già vedendo, in questo caso è una donazione dei Rotari della città, poi c'è un intervento in via del Purgatorio grazie alla rifinizione Penni, quindi anche in questo caso un'azienda del distretto Tessile, andremo a vedere anche l'intervento di forestazione urbana davanti al Centro Pecci che è completato, ma l'altro elemento importante appunto è che prosegue la campagna Donanalbero, quindi mentre nei casi precedenti sono aziende o associazioni che hanno donato, hanno fatto una donazione specifica su certe zone, nel caso di Donanalbero la campagna è sempre aperta, tutti i cittadini se possono andare nel sito di Prato Forest City e andare a Dona, ma cliccando possono andare a scegliere il luogo dove loro interessa piantare un albero, quindi attraverso una donazione di 150 euro poi verrà piantato l'albero e a loro verrà mandato un QR code dove loro sapranno che quello è l'albero che hanno contribuito a mettere a dimora e quindi potranno vedere anche come cresce. Questo chiaramente è un tema dove il Comune, avete capito, sta facendo la sua appunto attraverso milioni di euro di interventi, l'abbiamo sempre detto, la transizione verde di una città è una transizione che accomuna tutti noi, una comunità che deve capire l'importanza di questo, in questo contesto il Comune deve dare non solo l'esempio ma deve essere il primo a dire io parto, andiamo insieme e quindi in questo contesto anche 150 euro che magari per qualcuno può essere poco, per qualcuno può essere tantissimo, è un segno che tutti possono dare e che poi dopo appunto, il tema è che tutti possiamo contribuire ognuno con le proprie possibilità a dare una possibilità ulteriore di rinaturalizzare la nostra città. 30 secondi davvero per chiudere e in questo caso è proprio la sinergia tra amministrazione, cittadini e privati che permette di poter comunque rendere la città anche più vivibile. Assolutamente, quello che è importante davvero è capire che l'amministrazione comunale ha gli strumenti per fare progetti, per confrontarsi con le dinamiche anche di ricerca del CNR, università, le dinamiche europee, dei finanziamenti eccetera, ma quello che è importante, ancora più importante, è che l'amministrazione sia in grado di trasmettere l'importanza di queste, per questo motivo che viene fatta tutta questa formazione nelle scuole, vengono stimolati queste relazioni con le associazioni, con le imprese, perché? Perché questo è quello che ci farà bene, questo è quello che fa bene alle future generazioni e comunque avere una città più verde, tutti sappiamo che è più bello. Bene, io ringrazio davvero l'assessore all'ambiente Valerio Barberis, vi ricordo quindi dal 23 al 26 maggio, Prato Forest City Week, sul sito del Comune poi potete vedere tutti gli appuntamenti nel dettaglio, quindi chi è interessato può assolutamente partecipare, grazie davvero Assessore, grazie a tutti a casa di averci seguito, intorno alle 9 e torna domani, sempre dopo il telegiornale. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!